E' stato bello guardarmi allo specchio. Io sono un transgender, nato donna e ora legalmente uomo. L'anno scorso ho partorito il mio primo figlio da uomo in fecondazione artificiale. E' stato bello guardarmi allo specchio e vedere la mia pancia crescere. Mi sono sentito più maschio che mai, come se l'amore paterno fosse nato in anticipo dentro di me. Ora posso dire agli uomini che anche per noi partorire può essere un fatto naturale, come per le donne. Però io e mia moglie non vogliamo mettere limiti alla provvidenza. Abbiamo ancora una fiala conservata criogenicamente con il seme dello stesso donatore del mio primo figlio. I ben pensanti che cosa hanno da dire? Commento. Possono dire che questo contrasta con la legge di Dio conosciuta fino ad adesso e possono non credere più in Dio. Oppure possono intuire un Dio infinitamente più vasto, in cui la vita è sempre presente e si accende ogni volta che si creano le condizioni necessarie a che si accenda, a prescindere dal luogo fisico in cui si accende.